C'è posta per te 2023, ospiti e anticipazioni della prima puntata di sabato 7 gennaio. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali YouTube troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. Tutto pronto per il ritorno di C'è posta per te, il People Show di Maria De Filippi Campione d'ascolti del sabato sera. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata in onda sabato 7 gennaio 2023 in prima serata su canale 5. C'è posta per te 2023, ospiti di sabato 7 gennaio. Sabato 7 gennaio 2023 torna in prima serata su canale 5 la nuova attesissima stagione di c'è posta per te, il People Show condotto da Maria De Filippi. Il programma, giunto alla sua 26esima edizione, è tra i più amati e seguiti dal pubblico italiano, ma anche social dove è tra i più discussi e commentati. Per la puntata del debutto di sabato 7 gennaio, Maria De Filippi ha in serbo due super ospiti protagonisti di due sorprese. In studio, infatti, protagonisti di due imperdibili sorprese ci saranno, l'amatissimo attore turco Kanyaman, reduce dal grandissimo successo della fiction viola come il mare. L'attore Sex Symbol sarà il regalo sorpresa di una delle storie della prima puntata. Non solo, ospite della seconda sorpresa anche il gigante buono della cucina italiana ed internazionale. Di chi parliamo? Naturalmente del re degli chef stellati Antonino Cannavacciolo. Il segreto del successo dice posta per te di Maria De Filippi sono le storie narrate in maniera impeccabile dalla conduttrice. Anche in questa 26esima edizione saranno tante le persone che si succederanno davanti la famosissima busta. Il People Show, da anni uno dei programmi più seguiti del piccolo schermo, è diventato oramai l'appuntamento fisso per milioni di italiani pronti a vivere e ad immedesimarsi nella storie che portano alla luce sentimenti e conflitti familiari. Ogni settimana non mancheranno ospiti VIP e personaggi famosi che saranno il regalo che i protagonisti fanno ai propri cari. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Grazie per aver visto il video fino a questo punto, se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante, ci aiuterà ad indicizzare meglio il canale. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.